Il cuore di questa città è giallorosso, è giallorosso. Il cuore di questa città è giallorosso, è giallorosso, è giallorosso. Il cuore di questa città è giallorosso, è giallorosso, è giallorosso, è giallorosso. Vi faccio così un flash, se pensate a inizio terzo quarto contro piede con Collins il tiro da liberissimo, sbagliato, voi capite che tra fare un canestro e non farlo cambia molto perché l'inerzia e anche la fiducia, la convinzione tra i compagni ovviamente si rafforza o viene a essere minata. Siamo arrivati alla fine del terzo quarto con uno scarso 19% da tiro da tre punti e nell'ultimo quarto siamo riusciti a fare il 60% che diciamo che forse è stata l'unica vera differenza nell'arco di tutta la partita perché nel computo dei rimbalzi siamo stati molto bravi a riuscire a contenere la loro energia pur se nella seconda parte in due azioni hanno preso due volte due rimbalzi di attacco consecutivi e questo dà risorse non di poco in conto. Direi un applauso assolutamente ai miei giocatori anche perché arrivare in una partita 2-0 per quanto l'allenatore possa spingere e convincerli che è possibile che ci siamo per quello che voi avete letto nella conferenza stampa di venerdì ma anche per quello che io ho detto subito dopo mentre tornavamo in Pullman ho radunato la squadra in fondo e gli ho detto che dovevano aver fiducia di quello che avevano fatto e che io ero orgoglioso per come loro erano stati in campo che avevamo sbagliato qualcosa ma l'atteggiamento era giusto e mi dava grande fiducia per tornare qui, vincere gara tre, vincere gara quattro e per ripresentarci a Capodorlando per la quinta. Prego. Infatti ha risposto però raramente, sfido chiunque a dimentire che qualcuno è soddisfatto del cuore che dimostrano questa scuola di storia, la fotografia è caneto ma è un lavoro che penso globale quel quintetto senza americani prima e poi poi Young ha dato un po' la scossa. Non ho capito bene quindi voglio capire... Quintetto senza americani... No, 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 mi devi dirgli tutto perché credo che non ho capito... Raramente abbiamo visto combattere questa squadra e avere un cuore del genere come questo. Ah, ok, ok, non l'avevo capito, scusa. Inoltre, il quintetto che ha messo nella seconda parte... Sì, non sempre è facile, anche per l'allenatore, non sempre è facile mettere seduto un americano ma non perché ci abbiamo gli occhi foderati di prosciutto, perché ovviamente se li abbiamo presi per essere due stranieri probabilmente sono quelli che dovrebbero dare un valore aggiunto. Questo valore aggiunto non sempre c'è, non per demerito personale ma anche per quanto di buono riescono a fare gli avversari. Sicuramente il fatto di stare qualche minuto in panchina ti permette di prendere un po' di lucidità e riaffrontare poi, come notavi giustamente quando era entrato Young, riaffrontare la partita in un modo più lucido, sicuramente riposato, con molta più presenza. Io penso che stasera ce ne andiamo non solamente con la vittoria e quindi con aver la possibilità di giocarci cara a quattro ma credo che ci sia anche una convinzione nella testa dei miei giocatori che come gli avevo anticipato dopo una sconfitta che non è mai facile perché dopo una sconfitta il sentimento è quello di essere amareggiato se non arrabbiato. Mentre invece, ripeto, credo che forse l'abbiamo vinta proprio da dopo aver finito la partita lì a Capodorlando nell'esserci trasmessi fiducia reciproca che eravamo sulla strada giusta, che quei primi 20 minuti non potevano essere casuali. Poi come sempre c'è sempre, ci sono tanti aspetti e tante cose che accadono nell'arco dei 40 minuti e in quei secondi 20 minuti l'inizio di Capodorlando sicuramente ci ha tagliato le gambe e ci ha messo anche qualche tara nella testa che potevamo rischiare di perdere, la paura di vincerla. Però, ripeto, credo che la vittoria stasera sia figlia di quanto avevamo già fatto bene a Capodorlando pur meno la sconfitta. Sì, nonostante tutto non siamo riusciti ad avere una prolificità dal perimetro come magari in altre occasioni. Credo che abbiamo forzato un paio di tiri da tre punti, ma per il resto, ripeto, abbiamo chiuso i primi tre quarti con il 19% che per quanto non attraversiamo un momento sicuramente buono per realizzazione dall'arco dei tre punti però insomma il 19% è veramente scadente come percentuale. Quindi non abbiamo vinto la partita per tirare da tre punti, siamo andati a cercarla in altre situazioni. Abbiamo tirato tanti tiri liberi, ma come del resto li ha tirati anche Capodorlando perché abbiamo tirati, mi sembra, 25 e loro 31, se non mi ricordo male. 27 noi e 31 loro. Quindi siamo andati anche a cercare di variare quello che poteva essere il presentarci in attacco non solamente per quello che è il gioco perimetrale che è stato sempre preponderante per la nostra squadra ma cercando risorte spalla a canestro non solamente con i lunghi ma anche con gli esterni, con Gianco, con Ganeto con chi va a giocare in quel ruolo dove abbiamo le situazioni mismatch. C'è stata sicuramente più lucidità rispetto ad altre volte. Ma io penso che la stanchezza viene enormemente compensata da quello che c'è dentro per aver portato via questo risultato e quindi forse sarà un po' più pesante per Capodorlando perché credo che Capodorlando dopo la prima partita e dopo la seconda parte della seconda partita avesse forti convinzioni oggi di chiudere il conto. Invece devono tornare, quindi adesso un pochettino più di pressione gliela passiamo a loro e credo che invece noi trarremo molta energia da questo risultato quindi credo che il discorso stanchezza noi, stanchezza loro per noi si compensa con grande energia dovuta all'emotività di questo risultato dove non abbiamo fatto niente, abbiamo solamente riaperto i giochi e mantenuto quello che è vivo ancora questa serie dei quarti però penso che adesso un po' di pressione gli passi a loro. Grazie a tutti.